Il grande guerriero Achille non aveva rivali sul campo di battaglia, ma il suo glorioso destino sarebbe stato diverso se non avesse avuto le retrovie protette da una guardia d'elite nota come Mirmidoni. Si trattava di guerrieri temibili e lavoratori instancabili, la cui origine risale a una creatura minuscola, ma altrettanto coraggiosa e instancabile dei Mirmidoni. Zeus ebbe un figlio dalla Ninfa Aegina, figlia del dio fluviale Asopo. Da questa unione nacque Eaco e, come decine di altri figli bastardi di Zeus, fu perseguitato senza sosta dalla dea Hera, moglie di Zeus. Eaco continuò a governare l'isola di Aegina, chiamata così in onore di sua madre. Ma la dea Hera non voleva che un altro figlio illegittimo di Zeus vivesse in una posizione così onorevole e privilegiata, perciò decise di compiere la sua vendetta. L'isola di Aegina fu devastata da una terribile pestilenza, che uccise tutti i sudditi di Eaco, lasciandolo completamente disperato. Il re chiese aiuto al padre, perché non avrebbe mai potuto regnare su una terra disabitata. Da un formicaio, Zeus fece uscire i sudditi che suo figlio Eaco aveva implorato. Queste formiche diventarono uomini forti e coraggiosi, oltre che instancabili lavoratori. Una parte di questi uomini fu addestrata per formare un esercito noto per marciare su lunghe distanze e per essere fedele ai propri padroni. Eaco ebbe due figli famosi, Telamone di Salamina, padre di Ajace il Grande, e Peleo, padre del glorioso Achille. Con i mirmidoni al suo fianco, Achille immortalò il suo nome, grazie alle sue gesta, al fianco di questi guerrieri davanti alle mura di Troia.